Ciao ragazze, ciao ragazzi! Bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un kit di 12 pennelli economici, però secondo me molto validi. Scopriamo insieme quali sono. Allora, la marca di pennelli in questione si chiama Matrix Sight e viene venduta su Amazon. Si tratta in tutto di 12 pennelli che hanno un costo totale di 18,99€. Quindi il prezzo è molto basso per 12 pennelli. Però devo dire che in questo kit è presente tutto, o comunque quasi tutto. Quasi tutti i pennelli che servono per effettuare un make-up completo. O comunque, per chi si trucca tutti i giorni ma non è un professionista, direi che sono proprio tutti i pennelli, secondo me, essenziali per truccarsi. Come vi dicevo, questo kit viene venduto su Amazon. Se avete Amazon Prime c'è la spedizione Prime, quindi in un giorno arrivano, super velocissimi. Arrivano all'interno di questa scatola molto elegante, con scritto diciamo 12 pennelli, della marca Matrix Sight. Quando aprite la scatola trovate questa bellissima pochette, veramente veramente molto elegante. Comunque sembra proprio una borsettina, una pochette di quelle che si portano magari per un'uscita così. In realtà è un porta pennelli. Apriamo e subito qui troviamo una taschina, quindi dove si possono inserire con un fioc o altro. E poi ecco qui tutti i pennelli, contenuti all'interno delle apposite sezioni, sono 12 in tutto come pennelli. E inoltre i pennelloni, quelli da fard e da fondotinta, contengono anche il brush guard, che per chi non lo sapesse sono delle retine che si applicano, che si mettono sul pennello dopo averlo lavato, quindi da bagnato, per far sì che si asciughino mantenendo la propria forma originaria, che sono veramente utilissime. Alcuni pennelli sono di settura naturale e altri sono di setture sintetiche. Iniziamo con questo pennellino, che è un classico pennellino che si usa per pettinare le ciglia e le sopracciglia. Poi ci sono dei pennelli per gli occhi, per le labbra, per il correttore, da sfumatura e poi per il viso, quindi per il fondotinta e per applicare le polveri, quindi la cipria, la terra e il blush. A livello estetico i pennellini mi sembrano fatti molto bene, nel senso che in genere i pennelli economici si staccano, sono attaccati male, sono incollati male, perdono peli, eccetera, invece questi esteticamente sono carini e non si scollano anche dopo il lavaggio, sono dei nasti intatti. Per quanto riguarda le setole, le setole sono molto molto morbide e soprattutto la cosa che mi piace di questi pennelli è che siccome la maggior parte sono in settore naturali, prendono bene le polveri. In genere i pennelli che si trovano su Amazon, quelli un po' low cost, sono tutti in settore sintetiche e sono più consigliati per applicare i prodotti in crema, i correttori, eccetera. Invece questo kit mi è piaciuto proprio perché le setole sono proprio fatte in modo per far aggrappare bene la polvere e quindi puoi applicarla in modo comunque omogeneo sulla palpebra. E poi, ovvio, ci sono anche i pennellini comunque con le setole di nylon che vanno bene per applicare i prodotti in crema con il correttore e il rossetto. Un'altra cosa che mi piace di questo kit è che ci sono tanti tanti pennelli da sfumatura. C'è un po' di tutto. Infatti abbiamo pennellini per applicare l'ombretto, come per esempio questo, ma questo può essere anche un pennello di precisione per applicare l'ombretto proprio in delle zone piccole come per fare una sfumatura nella palpebra mobile, proprio all'attaccatura. Questo è veramente un attimo pennello, mi piace tantissimo. Poi abbiamo pennelli da sfumatura, come questo angolare, che può essere usato sia per sfumare, sia per applicare l'ombretto sulla palpebra in modo, diciamo, meno concentrato, non un pochino più sfumato. Poi abbiamo il pennellone da sfumatura, che è anche questo utilissimo per applicare, per sfumare l'ombretto nella piega palpebrale alta. È super, super utile questo. E raramente si trova nei kit economici che vendono su Amazon, per questo mi è piaciuto molto questo kit. E si può usare per sfumare qua sopra l'ombretto, per fare lo smokey eyes. Questo è utilissimo, secondo me deve esserci almeno uno in tutti i kit delle amanti del trucco. E poi c'è quest'altro pennellino, sempre da ombretto, però può essere usato anche per sfumare leggermente, perché è comunque una setola morbida fatta apposta per riuscire anche leggermente a sfumare. Comunque è più indicato, diciamo, per applicare l'ombretto. Mi è piaciuto molto poi questo pennellino qui, che è il pennello angolato, ed è fantastico per definire e disegnare le sopracciglia. È una forma veramente perfetta per disegnare le sopracciglia. L'ho usato diverse volte e mi è piaciuto moltissimo. Si può usare anche per applicare l'eyeliner, ma io lo preferisco per le sopracciglia, perché secondo me è una forma veramente perfetta e sapete quanto è importante in un trucco comunque definire le sopracciglia per dare un effetto wow. Poi abbiamo il classico pennellino da correttore, che si trova in tutti i kit in genere, quindi ce l'abbiamo anche qui. E poi il pennellino a lingua al catto, che si usa in genere per applicare il rossetto, ma si può usare anche per applicare il correttore in piccole zone, e comunque per prodotti in crema. E non vi ho fatto vedere che c'è un altro pennellino, sempre da correttore, in un setore di nylon, che è questo qui, che è più grande. Quindi va bene anche per mettere il correttore qui sotto le occhiaie. Poi passiamo ai pennelloni per il viso, che abbiamo un pennellone bianco molto carino da cipria, e poi uno più piccolo, che può essere usato leggermente per fare il contouring, ma soprattutto per il blush. E infine il classico pennello a lingua di catto da fondotinta. Allora, ho provato anche a lavare questi pennelli, e devo dire che non mi hanno perso setole. Forse giusto una o due così, ma proprio nella normalità, niente di che. Quindi promossi per quanto riguarda questo punto. Come vi dicevo prima, le setole sono molto morbide, soprattutto per quanto riguarda tutti i pennelli da occhi. E devo dire che sono tagliate anche abbastanza bene. Comunque, in genere, nei set di pennelli low cost, le setole sono tagliate male, ci sono alcune che escono, qui invece sono molto ben definite. Infatti poi il risultato si vede anche quando vi truccate. Io sto usando questi pennelli per truccarmi tutti i giorni. E mi sto trovando molto bene, perché riesco a fare sia un trucco più naturale, sia qualcosa anche di più strong, uno smoglia. Proprio perché sono tanti pennelli di diverso tipo. In genere tutti i pennelli sono morbidi. Gli unici che ho trovato un pochino più fastidiosi sono quelli da viso. E in particolare questo per il blush, perché secondo me punge un pochino. Quindi concludendo, cosa penso di questo kit di pennelli? Allora, innanzitutto, ho adorato la pochette, perché è veramente molto carina, elegante e fatta bene. Gli pennelli sono assemblati in modo ottimo, perché ancora non si è staccato nemmeno un pennello. Le setole sono, secondo me, ben tagliate. Sono morbide. Devo dire che, riassumendo, mi ha stupito molto, perché a differenza degli altri kit economici, che puntano tanto sui pennelli viso, questo punta tanto sui pennelli occhi. E sui pennelli occhi, che secondo me sono di qualità, fatti con queste setole molto morbide, riescono ad applicare bene l'ombretto e tutte le polderi. E poi sono ottimi, secondo me, perché c'è un po' di tutto qua dentro. In genere, veramente, raramente si trovano, secondo me, tutti questi pennellini da occhi dentro un kit. Quindi è veramente, veramente promosso, soprattutto se voi cercate un kit di pennelli occhi. Forse l'unico che manca è quello proprio sottile sottile d'eyeliner, che non tutte usano in realtà. E se avete un eyeliner in gel, sicuramente avrete già comprato, a parte anche il pennellino, proprio d'eyeliner, quello proprio sottile sottile. Ma per il resto è veramente, secondo me, un kit completo, per quanto riguarda i pennelli occhi. Un po' meno per quanto riguarda i pennelli viso, perché ovviamente, se siete delle patite, vorreste comunque qualcosa di un pochino più mirato per il viso, perché questi sono due pennelli proprio classici, grandi. Dipende anche dalla grandezza del vostro viso, in realtà. Perché per quanto riguarda questo da cipria, comunque, secondo me, va bene, può essere usato per la cipria, per la terra. Questo qui mi piace un po' meno, avrei fatto un pennellino un pochino più piccolo, con una forma migliore, fatta apposta per applicare comunque il blush, o la terra, per fare il contouring. Comunque, nel complesso, secondo me, è un ottimo kit di pennelli, ed è caduto proprio a pennello, come si suol dire per me, perché stavo cercando dei pennellini, soprattutto per gli occhi, da usare tutti e tutti i giorni. Quindi, sono veramente contenta, comunque, di aver ricevuto questo kit, perché è proprio questi pennelli che io riesco ad usare, veramente, tutti i giorni, senza dover andare a prendere, comunque, dei pennelli più professionali. Ovviamente, non si può paragonare, un kit di pennelli del genere, con, magari, dei pennelli, di macche super professionali, come la MAC, che vende, un unico pennello, a 30 euro. Però, penso, in realtà, che alcuni di questi pennelli, entreranno a far parte, del mio kit di lavoro, perché, mi sono piaciuti molto, e soprattutto, li userò per me stessa, per fare i trucchi, da tutti i giorni, perché, li trovo, davvero validi. E niente, questa è la mia recensione. Fatemi sapere, se, avete acquistato, avete trovato, dei kit, di pennelli economici, in giro su Amazon, o per il web, comunque, che siano di qualità, e che riescono, riescono ad applicare bene l'ombretto, perché, ultimamente, stavo proprio cercando, per avere, comunque, dei pennelli, proprio da battaglia, da mettere, sulla, sulla mia scrivania, sulla mia beauty table, per truccarmi così, tutti i giorni, senza spendere cifre, esorbitanti. E niente, spero che, il video vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima. Ciao!